Saranno eliminate le barriere architettoniche, verrà installato un ascensore, sistemati i climatizzatori, il piazzale d'accesso e gli infissi. Sono alcuni dei lavori in programma alla Scuola Media di Fano Matteo Nuti, un edificio ancora nuovo ma che necessita di manutenzione. E con 150 mila euro a disposizione del Comune, prenderà il via il cantiere che proseguirà anche durante la ripresa delle elezioni. Essendo autonomi, infatti, non dovrebbe creare problemi all'attività didattica. Nell'ambito degli interventi della Scuola di Cucurano Carrara e dell'intervento sul Sant'Arcangelo, abbiamo risparmiato una quota di spazi finanziari fuori patto che è di circa 150 mila euro. Considerato che la Scuola Nuti aveva delle esigenze, noi abbiamo approvato in giunta martedì un progetto esecutivo per 150 mila euro, anche questo da eseguire, completare entro la fine dell'anno, e che risolvano questi problemi. Quindi anche questo è un progetto che va a risolvere dei problemi che c'erano su una scuola, che la riqualifica e credo che sia un altro intervento che attesta la buona volontà e la capacità dell'ufficio lavori pubblici di affrontare e risolvere i problemi non appena trova uno spazio finanziario che può consentire la spesa.